Ma buon dia a tutti amici di Dopperfizione, siamo tornati finalmente con un Dopperfizione Reaction e quest'oggi il video uscirà un pochettino prima del solito perché lascerò un po' di spazio a tutti i video che verranno del Rugby Cross a Maggiora e campionato svizzero, vabbè, si intende quello a Pasquetta quindi verrà fuori, credo, un giorno prima quindi direi di iniziare subito con il video che è la settimana 13 qui ho già le mie cuffiette, via ok subito subito, un 208 che capotta malissimo, mamma mia porca vacca, si inizia bene ok, on board altro incidete oh, esterno curva la tiene, la tiene, non la tiene, è andato giù mamma mia giù dai boschi, che cosa sono sarei lo stesso rally? sicuro è lo stesso rally aia, aaaah alberoo a rc, ecco perché porca vacca, che tegola, che frontale sempre rc, guardate quanta nebbia che c'è uh, saltino maeta cappottone mamma mia quante, quanti incidenti nel rc quest'anno rc junior, attenzione, albero c'è albero, c'è albero, power, mamma mia che botta gli ha tirato anche due, due cappottoni eh sempre sulla nebbia, c'è gente che gli dice di andare piano perché ci sono due macchine mamma mia, ha quasi preso il focus che era lì terroppo tono col ds3 e fuori aaaah pesa malissimo oddio, suzuki swift da buttare mamma mia, che botte oggi cappottone come se non ci fossi domani eh nooo 105 stavo per me ma mi sembra che ci sia un 306 attenzione, guarda oh, dritto incastrata qui non la togli più ti togli anche la break eeeh, mitsubishi pensierino albero vabbè ancora ha fatto pochi danni su barino in prezza attenzione sempre la stessa curva sempre la stessa albero, credo tirato giù al campale ooooooooo, boom, boom e via tutte le romme attenzione, 500 giù nel fosso come ha fatto a fare da andare così in alto, va bene va bene comunque interno a curva interno a curva, on board per il controllo tac era lì anche per questa per cappottare drittissimo qui ho dritto 208 a cannone oh oh tienila tienila niente mamma mia che botta guarda che questo si è salvato da cappottone 205 eh 106 oggi mi dico ok oggi mi mi scordo i nomi delle macchine non so per quale motivo qui ho tre pa vabbè sembravo sembrava canzone mad north 8 vabbè ha distrutto il disco ha distrutto tutto in realtà la ruota va più veloce della macchina in questo momento oh veramente dove sta andando la ruota prendetela niente vabbè si è fermata oh mamma mia si ritornava in strada questo questo qui non so che peggio sia oh mamma mia il dolore fiesta dritto come l'altra si drittissimo muretto che muretto tiene però eh qui ho sempre stessa curva sempre bagnato per terra angolo mannaggia che potta chia di sera 106 bagnatissimo oh è contro il muro c'è qualcosa da fare sembra subaru di notte contro il muro va bene 206 super c oh saltino saltino prato 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 ok prato un po' più veloce ha preso un po' di roba il bandello che vanno dove cazzo mi pare andreucci rego del ciocco mi sembra no questo qui è fantastico è un genio un genio del mare oh toccatina fuori eh bestemmia inclusa mamma mia ah quella che era l'uccita non sembra saxo patro 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 bom ha preso ha preso proprio il piede che è del 600 che si fa i deraponi contro gli alberi non è male eh ok passiamo a un altro sport in circuito mi sembrano tutte Hyundai ci sarà porco can che te guarda che gli ha dato ok va bene BMW ahhh capotone eh ragazzi abbia fatto un po' attrito è rimasto io ancora 206k attenzione tom viato in pieno capotone sono troppo alti come macchine da pista mi sembra un fiesta cap però vedo anche altre macchine oh madonna porco cane che tegua che ha tirato mamma mia ahhh il micromachine nel circuito attenzione porco cane oh bruttissimo incidente mamma mia porco cane ok eh eh Audi mamma mia interno mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia che bello mi sa che ha finito la benzina eh vabbè si fa anche questo nel mondo dei ehm dei motori quando finisci la benzina inizi a spingere dai dai che ce la fai bravo bravo così si fa con gira volante sennò vai in mezzo alla strada vai 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 ma che lo aiutano se ce l'ho fatta se minchia sai quanto cazzo è stanco questo adesso guarda che roba eh immagino minchia oh mamma eh ah ah panos contro mcclaren mi sa che ha avuto un po' di ah ferrari contro il muro ferrari challenge mamma mia che botta continua a girare continua a girare mamma mia e all over the place proprio questo qui non so che cazzo la sia sinceramente perchè c'è una miata mamma mia mamma mia però c'è anche un BMW non capisco ci sono un drittissimo Lexus con la sospensione distrutta mamma mia mamma mia mamma mia drittissimo oh per me oh mamma mia che botta oggi oggi è veramente una una carneficina si continua a girare mi sa che mi sa che non ha capito cioè mi sa che gli è rimasto l'acceleratore attaccato ok uuuu muro non ho posto no è rimasto senza è rimasto nudo nudo la macchina via 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 toglietevi dalle baghe ok seguiva dritto uuuu ai 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 to muro ritorna dentro pericolosissimo ok meno male che stavano andando piano Porsche Cup mi sembra Carrera Cup uuuu porco cane mamma mia che botta veramente azevedo edu azevedo mamma mia 4 sta contando i giri mamma mia ma quanto è andato in netto questa volta sta macchina da un'altra ringrazione ancora puttana immagina se quella volta arriva in testa qualcuno vedete ha anche superato il guardrail porco cane oggi top uuuu che saltino ha perso il controllo attenzione drifting su erba mamma mia un mostro mi sa che però devi ritornare ai box per sostituire qualche sospensione all'interno attenzione c'è trazione tre gomme tutte e due fuori eeeh dac muro dac muro e adesso vedi te quando arriva nei box questi uuuu 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 mamma mia uuuu 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 Primi posti Qualcuno cadrà ai primi posti? Io non ho visto niente della MotoGP Orco cane Oh madonna in mezzo a due In mezzo a due persone Mamma mia Ha tirato giù alto Mamma mia che botta Beh Un incidente così in moto mi fanno sempre Porco cane che tegola Mamma mia Questo qui è autocross sicuro Sì non è Quindi autocross E sap che cappottano E qui ritorna la mia teoria Che in ogni Cazzo di railway svedese Bar autocross Questo qui è quello di prima Uno minimo deve cappottare Minimo uno O il coca anche botta C'è anche un principio di incendio E' rimasto proprio la terra Perché non ci sono più le rotte posteriori Attenzione Pirouette per lui E' ritornato però Giusto giusto Voto 10 proprio Allora Io direi che Questo episodio E' finito E' stato molto completo Di cappottoni E botte varie Soprattutto quello della Porsche Della Carrera Cup E niente Vi riporto Gli altri video In descrizione Barra Nelle cartelle Che ci sono Nel video E Buona visione Con gli altri video Buona visione Buona visione